Inizia il video mettendo la canzone di Sia Oh dice mette viso raga Aurora Labro inizia il video dicendo tutte le cose al contrario Ok Addio a nessuno e andate via da questo vecchio video Che non è un video perché la cosa devo dirla al contrario Non sono K-Licious Ciao Damari De Campanelli Quanti ragazzi hai avuto? Due Il mio ex e Peppe adesso quindi due Tatiana Messinaotto Profumo preferito? Direi Alien 1010 2004 Qual è il tuo oggetto preferito nella tua stanza? Oddio a me piacciono un po' tutti gli oggetti della mia stanza Però direi Penso proprio loro che sono là dietro Vedete le mie peluche a forma di emoticon Di cacchina E di ciambella Perché se magna Samuel Fons Ti è mai capitato di morire? Come dice Paciello Owed Quando muori Dimenticatene Oh sì Nei videogiochi mi è capitato Cioè Muoio sempre nei videogiochi Bastia995 Dimmi Proprio pretende Quanti ragazzi hai tradito? Ha scoppiata la lampadina Ha scoppiato la lampadina Contro tutte le aspettative di voi che state guardando il video Almeno la maggior parte O comunque chi non è iscritto e mi conosce e basta Non ho tradito mai nessun ragazzo Veramente Perché sinceramente io ho un pensiero Ho un pensiero proprio preciso Se tu stai con una persona E comunque non ti ci trovi più bene Non provi più le stesse cose Ci sono tante cose comunque che non vanno Cioè Piuttosto che tradirla Cioè Prima lasciala Prima lasciala Soprattutto per rispetto suo Della persona che comunque Ci sei stato Ci sei stata insieme La lasci E poi ti vai a fare i bei cavoletti tuoi Che poi no Perché devi tradire una persona? Cioè Non ha senso Prima lasciala Cioè Se dovete tradire qualcuno Prima lasciatela alla persona Ok Cuore di Ghiaccio mi chiede Una pazzia che desideri fare Ma che ancora non hai mai fatto Lanciarmi col paracadute Proprio Nel vuoto E credo però che la farò Perché il mio dentista Il mio dentista Stranamente Va a fare Cioè A lobby di fare cose pazze Fare bugging jumping Buttarsi dal paracadute E mi ha invitato Io ho detto Vabbè dai Lo facciamo Farò anche il video Se dovessi farlo Però Sì Se volete che io mi butti dal Come si chiama? Dall'elicottero Fatemelo sapere qua sotto Isabelle Rizzo 5 cose che odia 5 cose che ami Allora Odio I numeri dispari Non mi chiedete perché Non li sopporto Anche se io sono nata In un numero dispari Le persone inaffidabili Mamma mia Proprio recentemente Mi è capitato Che avevo un impegno Mi sono Anche Ho anche speso dei soldi Appunto Per Per portare a termine Questo impegno Una persona Che doveva venire Non è più venuta Ma non è che non è venuta E' avvertito Cioè E' sparita Le persone inaffidabili Io proprio non le tollero Io le bugie Vabbè questo Penso che lo sapevate I rumori intermittenza Quelli degli orologi Quelle delle citture di sicurezza Quelle dei telefoni Le sveglie dei telefoni Quando suonano E nessuna le spegne Svegliarmi con la vescica piena Quando sto dormendo Beatamente E odio anche il vento Perché Perché sì Lo odio D'inverno soprattutto Perché si gela Cose che amo Mangiare Vabbè Amo tantissimo Le persone ironiche Io sono la prima persona ironica Che si prende per culo da sola Quindi amo l'ironia La musica Perché senza musica non vivo Amo mio nipote E ovviamente amo Il mio ragazzo Vabbè Camilla Cingolani Cosa c'è nella tua lista Di cose da fare Prima di morire Bene Andare a vivere da sola Farmi la macchina E viaggiare Viaggiare per tutta la vita Veramente Io fino a che non muoio ovviamente Perché se no È inudile Fantastic Cristina Qual è il tuo animale preferito? Hai animali domestici? E quello che ti fa più paura? Il mio animale preferito È lo squalo È strano Sì Sì Ho un animale domestico Che è brio È un pincere A quasi sei anni E invece L'animale di cui ho paura Proprio Ho proprio la fobia Sono oracnofobica Di ragni Matilde Bellemo O Bellemo Non so come si pronunci Ti chiamano per fare un film Che culo Ti chiedono di scegliere Fra Robert Pattinson Theo James E Liam Hemsworth Chi sceglieresti? Ciao Matilde Ma Jess Williams No? Maddy0403 Qual è il tuo outfit preferito? O che indossi più spesso? E il negozio di abbigliamento Che preferisci? Allora Indosso Vabbè D'estate Indosso Insomma Canottierine Canottierine Vedete Tipo questa Shorts Corti Andosso Scappe da ginnastica Anche d'estate Però dipende appunto Dalle occasioni Altrimenti Le zeppe E basta Cioè cose normali E poi Il mio negozio di abbigliamento preferito Dunque H&M Oppure Dally Whale Riti Georgia Qual è il tuo sogno nel cassetto? E se non fosse nel cassetto Ma fosse nell'armadio No vabbè Sto sclerando Il mio sogno nel cassetto L'ho realizzato Vedendo gli FL65 Lo sapete E Altrimenti Oddio Adesso Ora come ora Penso essere serena Basta Clacocci Mi fa una domanda Molto intelligente E mi chiede Quanto tempo devi tenere Il ferro in bocca? Per far concorrenza Ad un piragna Piragna ha scritto GNA Di certo Tu non fai concorrenza Ad un vocabolario Tieni Questo è per te Con tanto affetto Bel vocabolario TGLI mi fa Mi fa Saresti gelosa Se qualche ragazza Uscisse con Peppe? Ciao Elisa Io sarei gelosa E lui sarebbe single E questo a scappa Xoxo Questa volta Mi chiede di fare Una cosa molto carina Ti puoi ricoprire La faccia di acqua E poi spalmarci La farina Stendo un velo pietoso No non è vero Un asciugamano E il bello che poi Dovrò fare il video così Che bello Che bellezze Almeno fatemi sciacquare la bocca Perché Dopo è un casino Ora che sono pronta Per essere impastata E fare la pizza Alexis Goran Scegli una canzone a caso E cantala Dato che c'è mio padre E lui non mi ha mai sentito cantare Anche se ha visto i video Però dal vivo Non mi ha mai sentito cantare Vi faccio sentire Una registrazione Che ho fatto Proprio Due giorni fa Dove provavo a cantare La nuova canzone Della Michelin Ma sarò tua Tu sarò mia Ho i briviti Abbi cura di quello che sei Di ciò che senti E ciò che vuoi E non dimenticarlo mai Avere un cuore in tua Non è facile Ognuno vuole più Della metà per sé Che se mi faccio male Poi lo senti tu Qualcuno ne ha di più Mi si sta incrostando Mi si sta incrostando tutto il viso Ora cade a pezzi Iman 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 Ilf03 Se il tuo ragazzo ti Tradirebbe Qual è la cosa che faresti Per prima Vabbè Incazzarmi ovviamente Penso che gli sbroccherei Al telefono Proprio lo chiamo Neanche in chat Lo chiamo proprio Poi gli tolgo l'amicizia Gli tolgo Cioè lo cancello da Whatsapp Sparisco praticamente Sofì GearBuds Avresti il coraggio Di mettere il correttore Al posto del rossetto E il rossetto Al posto dell'ombretto Ma tanto ormai Oh Che eroglio Di ragazzo Oh Così rimorchierò di sicuro Quest'estate Questo è il rossetto Che sto utilizzando ultimamente Vabbè Tranne oggi Ed è tipo marrone Oh Che bellezze Mofi Amdi Manda un messaggio vocale All'ultima persona Con cui hai messaggiato E di che ti sei persa E non sai più dove sei L'ultima persona Con cui ho messaggiato È Claudia Che praticamente Mi segue da una vita La incontro spesso E niente Facciamo anche questo scherzo Amo Senti Non lo so Sto per scherzo Sto per strada Però mi sono persa Non mi va più Google Maps Non so più dove sto Senti Non lo so Sto per strada Però mi sono persa Non mi va più Google Maps Domanda molto seria Con questa faccia Però vabbè Valentina Ciaccio Mi fa Molti credono Che Peppe Ti usi per avere più iscritti E mi piace Tu cosa ne pensi? Allora In realtà Non solo voi Nei commenti Me lo dite Ma anche altre persone Però Quello che penso io È questo Allora In ogni caso Oltre YouTube Noi siamo persone reali Poi se mi usa Solo Dico solo Per gli iscritti Me ne accorgerò E agirò di conseguenza Però non credo che mi usi Per gli iscritti Naturalmente Facendo la YouTuber Qualunque persona Appaia nei miei video È ovvio che comunque La gente Paola va a vedere No? E quindi la gente Che si iscrive al suo canale Non è che si iscrive Perché La mando io ad iscriversi Anzi Non lo dico mai Si iscrive al suo canale Perché probabilmente Comunque lo apprezza Itch 000607 Se per un giorno Potessi disporre Di un milione di euro Cosa acquisteresti? Allora Un solo giorno Quindi vuol dire Che il giorno dopo Ritorno così Povera Senza una lira Innanzitutto Acquisterei una casa Per ogni membro Della mia famiglia Quindi per me Per mio padre Per mia madre Mia sorella Il suo marito Gli altri due miei nipoti Proprio gliela comprerei Anche in anticipo Anche se sono piccoli E programmerei E prenoterei Viaggi Per i prossimi Dieci anni O comunque Fino a che I soldi non mi finiscono Anto Deros Perché ti sei fidanzata Con Peppe Per molti ti sfrutta Aridaie Per views E iscritti Cioè veramente Li abbiamo visti Tutti i suoi video E quello che ti fa fare Allora io lo ripeto Quello che vedete voi Sono solo video Non ci vivete al di fuori Non sapete quello che Provo io Quello che prova lui E vi ripeto Se sarà così Cioè sarà una iena Ma non credo proprio Che sarà così Perché comunque Oddio Mi sono scordata Di avere la farina in faccia Ma poi scusate No Ma perché Se due persone Che stanno insieme Danno entrambi Un canale youtube Devono stare insieme Per forza E usarsi Io ve lo ripeto Se mi accorgerò Di questa cosa Girò di conseguenza E ovviamente Diventerò una iena Dreaming di Caprio Quando qualcuno Sbaglia la grammatica Davanti a te Cosa Chi è Se qualcuno Dovesse sbagliare grammatica Ciao Veronica Io Quando sbaglia davanti a me Proprio È vero Lo correggo Cioè se qualcuno Sbaglia un verbo Davanti a me Io non resisto Dal dirgli Il verbo giusto Che poi anche io Veramente Parlando dal vivo Sbaglio parecchie volte Anche quando faccio i video E il problema È quando una persona Sbaglia scrivendo Perché tu scrivi Vedi quello che scrivi Non lo correggi E quindi Vuoi indizionare pure tu Ben mi fatto Qual è la cosa Che hai sempre voluto di più Che i tuoi Non ti hanno mai comprato Il di più non c'era Non so perché L'ho messo in mezzo Allora da piccola Volevo il Furby E non me l'hanno mai preso Proprio maledetti E poi volevo la fabbrica Non delle bambole Ma io volevo quella dei mostri Non so se anche da voi Non so di che parte d'Italia siete Però la facevano Volevo sta benedetta fabbrica dei mostri Con tutte le cose da creare Appiccicosi Le formine Tutto quanto Così come volevo Il robottino Emilio è meglio Oppure il computer Quello della Clementoni Vecchio E Vabbè niente Era una bambina disagiata Che andava avanti Con gira la moda Con l'aereo di Barbie La casa di Barbie Tutto de Barbie Alessia Martena Prendi l'emoticon Che ti piace di più E spiegano il perché Allora l'emoticon Che mi piace di più A parte quella È un emoticon Che non è ancora stata inventata E allora voi dite Perché è un emoticon? Perché è questa Vi prego inventatela Inventatela Vi pago Inventatela TZN23 Vale Ha mai fatto cose In Legali Perché è moto A luogo Comunque no Silvia Cianfrone Se non fossi fidanzata Parteciperesti a uomini e donne Corteggiatrice o tronista? Non credo che andrei a uomini e donne Anche se Alessia e Marta Tipo l'anno scorso Mi ci segnarono A mia insaputa E mi chiamarono pure Solo che io non ci andai Però se proprio dovessi scegliere Andrei come tronista Voi dite Sì perché così te la tiri Andrei come tronista Solo perché così Mi sceglierei proprio io Cioè me lo voglio Cioè l'uomo Me lo devo scegliere io Se io andassi come corteggiatrice Starei con l'ansia Sarei gelosa Vedere questo qua Che si bacia tutte Come ovviamente accade sempre E non vorrei mai essere La seconda scelta Sapete quando rimangono in due Se invece fossi tronista Deciderai io Chi prendermi La persona che proprio Voglio Me la prenderei E solo per questo Sarei tronista Anche questo video è finito Io vi mando un bacione Se avete altre domande Lasciatemele sempre Qua sotto O su Instagram Con l'hashtag Ascappa Vi mando un bacione E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao